Nessuno aveva il diritto di farmi del male, mi hanno reso più forte, ma tutto questo deve finire. Ha pubblicato nomi e indirizzi degli attivisti omosessuali sotto il titolo Impiccatelli, ce lo ricorda questo titolo peraltro della stampa. E proprio da qui ripartiamo adesso per parlare con le nostre prossime due ospiti che sono collegate con noi dalla postazione RAI di Montecitorio, l'onorevole Paola Concia, la sua compagna Riccarda Trautman di professione psicoterapeuta. Buongiorno e benvenute. Grazie, allora Paola mi permetto di darti del tu perché ci conosciamo da un po' di anni. Ma certo Giovanni. Perché secondo te i cosiddetti stupri correttivi come avete visto avvengono proprio in un paese avanzato come il Sudafrica dal punto di vista della legislazione pro-gay? Ma guarda, ne parlavamo adesso con Riccarda che lei conosce bene il Sudafrica perché ha una casa in Sudafrica, sua mamma, suo nonno è stato in Sudafrica. E sostanzialmente mi diceva lei che queste leggi sono soprattutto per i bianchi sudafricani. Purtroppo ancora non si è riuscito a far diventare quella cultura, a far permeare anche la cultura di una cultura sui diretti civili in questo senso. Questo era quello di cui parlavamo adesso. Detto questo non è soltanto il Sudafrica come ci ricordavi tu, ma sono tanti i paesi dell'Africa dove l'omosessualità viene condannata in questo modo. E gli stupri sono forse una delle cose, oltre alla violenza e all'impiccagione come avviene nei paesi musulmani, sono una cosa terrificante, una cosa che per una donna lesbica sentire quei racconti è una cosa molto dolorosa per me, per esempio. In questa Italia omofoba non mi arrenderò ai nemici dell'amore. Sono parole tue, sono riportate in un titolo del quotidiano La Repubblica e quindi veniamo a quella famosa aggressione omofoba che avete avuto il 19 aprile. Per chi non fosse stato informato dei fatti, cos'è successo? È vero che chi vi stava vicino invece di solidarizzare scattava delle foto? Ricordateci brevemente. E niente, stavamo camminando io e Riccarda, ma non nella mano, stavamo quasi arrivando a piazza del Parlamento, eravamo tranquille, serene, volevamo andare al concerto dei Batti Smith e Carmen Consoli e a un certo punto un ragazzo ci ha incrociato e ci ha cominciato a riempire di insulti pesantissimi, urlando, dicendo lesbiche di merda, io t'ho riconosciuta, tu sei una parlamentare, anzi mi fa ancora più schifo che tu sei una lesbica sia in Parlamento, vi dovrebbero mettere in forno i crematori, anzi dovrebbero rifarlo perché voi quello vi meritate e sì, non c'è, sta tranne una signora e un'altra ragazza, insomma le persone vicine, poi ho reagito e appunto come dico nell'articolo non ho abbassato sicuramente la testa, perché non ho niente di cui vergognarmi e perché appunto se non lo facevo io, che sono una donna forte, che sono una donna pubblica, io sono un esempio per gli altri ragazzi, se non lo facevo io chi lo deve fare, chi si deve ribellare a questa omofobia? E però diciamo non c'è stata molta solidarietà e soprattutto qualcuno ha addirittura insinuato che io non dovevo ribellarmi, che forse noi omosessuali in questo paese dobbiamo subire le violenze o gli insulti o gli sputi come ci accade quotidianamente, dobbiamo abbassare la testa e andare avanti, ecco io credo che questo non sia giusto, ma poi insomma Giorgio conosce bene questa cosa e io penso che questo paese debba cambiare per forza e che gli omosessuali devono avere il diritto nel nostro paese di vivere come tutti gli altri cittadini dell'Unione Europea in cui l'amore che provano tra di loro ragazzi e ragazze omosessuali è qualcosa come l'amore omosessuale. Scusami Paola, mi senti? Allora scusa, volevo chiederti un'altra cosa però, ma l'aggressore che fine ha fatto, se ne è andato indisturbato, è stato identificato? L'aggressore se ne è andato assolutamente indisturbato, continuando ad urlare, si, se ne è andato indisturbato e poi niente. Dottoressa Trautman, fatti di questo genere accadono anche in Germania? E in casi come questo, come si comporta la legge? Che fine avrebbe fatto questo aggressore in Germania? Sì, queste cose succedono anche in Germania, però in Germania dopo tu devi pagare una multa. Comunque vieni arrestato, vieni fermato. Sì, io potrei denunciare uno come lui e poi se è la prima volta lui, devo almeno pagare una multa, se lui comincia a fare queste cose, forse va anche in galera. Questa è la differenza. Perché c'è una legge. Esatto, c'è una bella differenza. Paola, tu hai parlato di un diffuso clima omofobo e razzista che appunto dicevi prima autorizza in qualche modo addirittura l'aggressione perché tanto regna l'impunità, tanto non ci sono leggi che puniscono. Quindi secondo te sono peggiorate le cose rispetto a un tempo e quindi la benedetta legge contro l'omofobia che tu hai tanto sostenuto, la ripresenterai? Stai ottenendo consenso di nuovo intorno alla tua proposta? Ma io sto lavorando, continuando a lavorare, ho ripresentato, stiamo lavorando in commissione, ma io credo che il clima sia peggiorato da un po' di anni. E questo Giorgio dell'Arcighieri, l'Arcighieri lo sa benissimo, sono un po' di anni che c'è questo clima soprattutto di impunità, perché come diceva Riccarda, in Germania esiste una legge, come esiste in America, come esiste in tutti i paesi dell'Unione Europea, tranne Italia e Grecia. E lì non è che gli omofobi non esistono, i razzisti non esistono, esistono ma c'è una sanzione sociale, mentre in Italia c'è un'autorizzazione sociale all'omofobia e al razzismo. E questo è frutto delle politiche di questi anni nel governo di centrodestra. E quindi le persone hanno, c'è un senso di impunità rispetto agli atti violenti contro chi è diverso, assolutamente sono aumentati. Allora, veniamo invece a quello che di positivo già si è fatto, perché mentre negli Stati Uniti l'esercito apre ai gay e lesbiche dichiarati, ce lo ricorda questo titolo di giornale, da noi nel febbraio 2005 è attiva l'associazione Polis Aperta, la prima associazione di gay e lesbiche indivisa. Ebbene, Roberta Cerco ha incontrato una rappresentante di Polis Aperta, che per la prima volta, e di questo la ringraziamo, in televisione ha accettato di raccontarsi. Vediamo. Mi chiamo Simonetta, ho 38 anni, vivo a Bologna, sono laureata in psicologia, specializzata come psicoterapeuta e lavoro da più di 10 anni in Polizia Municipale. Ho capito che mi piacevano le donne fin da piccola, però sono sempre cresciuta con un sentimento di omofobia interiorizzata, cioè nella mia testa non esisteva che due donne potessero stare assieme. 50.000 lacrime non basteranno perché musica triste sei tu dentro di me. Finita l'università ho fatto il concorso in Polizia Municipale, dopo un paio d'anni sono venuta a conoscenza che esisteva anche l'associazione Polis Aperta, di lavoratori delle forze dell'ordine, uomini e donne omosessuali. Ci scrivono persone che lavorano nelle forze dell'ordine, soprattutto nell'esercito, che si lamentano sia di subire discriminazioni, sia hanno paura di uscire allo scoperto. Nell'ambiente di lavoro assolutamente non parlavo della mia vita affettiva. Un giorno al lavoro arrivò una mail con questi powerpoint, queste catene scherzose su qual era il vantaggio di essere donne piuttosto che uomini e all'interno c'erano un paio di battute, a mio avviso poco carine nei confronti degli omosessuali. E in particolare due mie colleghe colpite mi chiesero come mai mi ero risentita fino al punto di scrivere una mail a tutti, perché le avevo bacchettate così e quella fu l'occasione di uscire allo scoperto. E quindi in particolare l'anno scorso ho chiesto al comandante l'autorizzazione a poter indossare la divisa al convegno delle GPA, che è la European Gay Police Association, cioè questa rete di associazioni europee, che fa un convegno ogni due anni in una diversa città, l'anno scorso era a Vienna. È un congresso incentrato sui crimini omofobici e in particolare sul problema dell'immersione di questi crimini, cioè sul fatto che le persone non sporgono denuncia e che quindi non si sa effettivamente l'entità del problema. Ho autorizzato la collega e volentieri per il fatto che questo è associabile, questa possibilità, questo evento, questo momento di formazione a un tema come quello dell'omofobia e quindi di reati che possono essere associati a comportamenti ingiusti. È, credo, abbastanza utile e altrettanto interessante toccare un altro versante, quello appunto dell'omofobia, che in certi casi può portare a forme di sperequazione, di isolamento, anche di violenza, nei confronti di talune persone. Sicuramente il mio percorso non è stato una passeggiata, ci sono stati dei momenti difficili e un principio che mi ha sempre incoraggiato è la frase che l'inverno si trasforma sempre in primavera, quindi anche nei momenti di difficoltà ho sempre pensato che valeva la pena di affrontare, attraversare quella difficoltà perché era la strada per poi riuscire a far splendere un sole ancora più forte, più bello di quello che era stato prima. Grazie 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 Grazie